Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, la procura di Siena ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell'incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Manuel Cavanna, 23enne delle Chianacce nel Cortonese, deceduto ieri mentre prestava servizio come esterno in un'azienda che si occupa di realizzazione di box per cavalli in località Treberta nel comune di Montepulciano. Una tragedia che ha scosso l'intero cortonese come del resto tutta la provincia di Arezzo che oggi piange la scomparsa del giovane. I funerali del 23enne si svolgeranno domani pomeriggio alle Chianacce di Corton. Torniamo in città, un altro episodio movimentato ai giardini della Porcinaia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Arezzo. Durante la notte ci sarebbe stata infatti l'ennesima rissa durante la quale sarebbero volate anche delle sedie di esercizi commerciali che sarebbero stati così danneggiati. Residenti e commercianti ormai da tempo chiedono più sicurezza e sono pronti a salire sino al comune. Meno slogan, più sicurezza. È a questo motto che il Comitato Arezzo Unita salirà il prossimo martedì in Piazza della Libertà, una manifestazione in contemporanea con il Consiglio Comunale a partire dalle 14.30. Residenti e commercianti che vivono e lavorano nella zona dei giardini del Porcinaia hanno infatti deciso di organizzare un sit-in pacifico e civile per chiedere più sicurezza e tutela. L'area, a pochi passi dalla stazione, nelle ultime settimane è finita ripetutamente sotto i riflettori della cronaca cittadina. Prima un tentato omicidio, poi risse spaccio. Ormai è diventata come fosse una routine. Tutto questo crimine diffuso, microcrimine, ormai sembra diventato l'ordine del giorno. Se non sono di sera, sono nel primo pomeriggio. Varia solo l'orario, diciamo, ma le risse rimangono sempre all'ordine del giorno. Disperazione, scorrezzamenti in qua e là, berci di bambini, spaccio, c'è di tutto e di più. Da marzo ad oggi almeno cinque è il momento in cui le forze dell'ordine sono dovute intervenire. Un senso di insicurezza da parte di cittadini e commercianti che cresce giorno dopo giorno. Posso capire se qualcuno abbia timore a passare per questa strada. Le stesse organizzazioni di categoria, confesarcenti e confcommercio, nei giorni scorsi avevano scritto alla prefetta di Arezzo Maddalena De Luca e al sindaco Alessandro Ghinelli per chiedere che venga intensificata la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine potenziata all'illuminazione pubblica anche in via provvisoria in vista della riqualificazione dell'aria, come annunciato dall'amministrazione comunale. Da parte mia ci vorrebbe un presidio fisso, proprio come è stato fatto in altre città, in altre zone così degeneranti, perché qui la situazione sta peggiorando, sta precipitando vorticosamente. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Il 4 giugno dovrà andare a processo e rispondere del reato di tentato a violenza sessuale un uomo di 38 anni, straniero ma residente in provincia di Arezzo, accusato di aver molestato 6 ragazzine, tutte minorenne, a bordo dell'autobus che lui prendeva per recarsi al lavoro e loro per andare e tornare da scuola. Le vittime residenti in diversi comuni della provincia avevano presentato denuncia ai carabinieri e da lì erano partite le indagini. Il 38enne attualmente si trova agli arresti domiciliari. Voltiamo pagina adesso. Si è svolto nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo l'incontro dibattito organizzato dalla CISL dal titolo Senza ombre dietro le sbarre. Se dovessi fare una graduatoria tra i carceri in cui si vive meglio in Toscana lo metterei tra i primi. In realtà le dimensioni del carcere è che assieme a quello di Siena, di Grossete ed altri è uno dei più piccoli, lo rende particolarmente idoneo alle recupero sociali dei detenuti. Così Giuseppe Fanfani, garante regionale dei detenuti sul carcere aretino di San Benedetto sulle cui condizioni si è riflettuto a lungo durante il convegno Senza ombre dietro le sbarre organizzato dalla CISLaretina e ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Nodo fondamentale da sciogliere per migliorare la situazione attuale per detenuti e personale è quello della capienza. I lavori di ristrutturazione necessitano di alcune modifiche che rendano possibile il raggiungimento della capienza prevista di 100 posti ad oggi dimezzata e l'insufficienza del personale di polizia penitenziaria. Purtroppo già adesso ci sono molti problemi, se si sovrappongono anche soltanto un paio di malattie ci sono problemi per i turni. Noi questa cosa l'abbiamo già fatta presente diverse volte abbiamo sollecitato in questo senso anche la prefettura e in qualche modo c'è stata un'attivazione ma vorremmo che fosse ancora più partecipe perché avere polizia penitenziaria non è una sicurezza e una garanzia solo per il carcere ma per tutta la tenuta della sicurezza nel territorio aretino. Poi l'altra questione è invece proprio la casa circondariale di Arezzo e la valorizzazione della casa circondariale che è stata già ampiamente ristrutturata, darebbe la possibilità di dare una maggior affluenza anche delle persone per il sovravbollamento delle carceri mentre invece in questo momento anche a causa della carenza della polizia penitenziaria non se ne parla. Noi vorremmo accendere una luce su questo tema, vorremmo che anche le istituzioni collaborassero in sinergia per poter dire che Arezzo c'è, ha bisogno e necessità di implementare la propria casa circondariale in tutti i sensi e questo per aiutare e dare respiro anche alle persone che purtroppo in carcere devono andare e devono passare lì il loro periodo di pena e di rieducazione. Aumentano i casi di emergenza psicopatologica tra i giovani aretini e così nel reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo arriva una psicologa. Noi nel nostro pronto soccorso stiamo vedendo sempre più casistica di bambini, preadolescenti e adolescenti con problematiche psicopatologiche acute, anche vere e proprie emergenze neuropsichiatriche. Sono aumentati soprattutto dopo l'epidemia Covid. Aumentano le situazioni di emergenza e urgenza psicopatologiche tra i giovani anche ad Arezzo. Non passa giorno che nel nostro pronto soccorso, letti hobby, nelle nostre emergenze ospedaliere non ci sia purtroppo ricoverato uno o più bambini o ragazzi, preadolescenti con una di queste problematiche molto varie che vanno, faccio un esempio, dagli stati di ansia, attacchi di panico, autolesionismo, condotte purtroppo anche importanti di tipo suicidari oppure disturbi comportamentali e in generale disturbi del comportamento alimentare ma anche disturbi acuti neuropsichiatrici. Per rispondere a questo bisogno di cura è stata così ampliata l'equip sanitaria con la presenza di uno psicologo che svolgerà la propria attività tra l'unità funzionali salute mentale, infanzia ed adolescenza e il reparto di pediatria dell'ospedale San Donato. Come diceva il dottor Martini sicuramente la pandemia ha decisamente aumentato le situazioni anche se dei segnali di criticità importante li abbiamo visti anche nella situazione prepandemica e la situazione adolescenziale in generale è una situazione che ci preoccupa molto da tanti punti di vista accompagnano le emergenze che accedono all'ospedale e tutta una serie di altre emergenze che hanno a che fare più con il livello sociale e che accedono spesso anche nell'area della tutela minori caratterizzate anche da situazioni di violenza minorile significativa nella nostra città e quindi è un'area di attenzione fondamentale per il Dipartimento di Salute Mentale che in questo tempo ha cercato di costruire percorsi di rete tra tutti i servizi interessati in un raccordo molto stretto con le scuole e con il sociale del territorio. Sarà così garantita continuità tra lo spazio ospedaliero ed uno territoriale e la continuità del percorso di cura. La presenza che possa accogliere queste situazioni di emergenza urgenza all'interno del reparto e fare rete con il territoriale e quindi tutti gli interventi necessari poi al momento della dimissione. Tutto pronto per la 49esima edizione di Ora Rezzo in programma dall'11 alla 14 maggio all'Arezzo Fiere e Congressi. Emirati Arabi, Turchia, Stati Uniti, Hong Kong e Francia. La manifattura Orofa e Argentiera è pronta a ritrovare i mercati esteri di riferimento del primo distretto produttivo italiano una cinquina che vale più del 65% dell'export di settore per un valore di 1,6 miliardi. Ad Arezzo Fiere e Congressi dall'11 al 14 maggio prossimi torna infatti la 43esima edizione di Ora Rezzo la manifestazione firmata da Italia Exhibition Group. In vetrina la manifattura Made in Italy con tutte le varietà di catene in oro o argento semilavorati e componentistica chiusure per collane assieme ad una sempre maggiore offerta di produzione gioielliera. Con una novità quest'anno l'evento infatti apre anche alle aziende della filiera del fashion. Confermata poi la vocazione internazionale anche dai player esteri che hanno scelto la manifestazione di Yeg per il loro business. Torna infine anche premier lo storico evento di Ora Rezzo che ogni anno celebra la migliore manifattura Orofa italiana mettendo a confronto creazioni originali sviluppate dalle aziende partendo da un tema condiviso sempre nuovo e diverso tra tradizione e contemporaneità. Il tema proposto dall'art director Beppe Angiolini quest'anno è amore e bellezza. Confermata anche la categoria Talents riservata agli studenti e giovani designer under 30. Domenica 21 aprile con inizio alle 17 nell'ambito del mese blu dell'autismo è in programma il tradizionale spettacolo di musiche parole per l'autismo. Ospite speciale di quest'anno Paola Turci, un monumento della musica d'autore italiana ed artista da sempre impegnata sui temi della giustizia sociale con una performance appunto tra musiche e parole. Lo spettacolo ha incentrato sui temi della libertà e vedrà anche l'esibizione di Ettore Caterino un medico neuropsichiatra e musicista assieme ai ragazzi della liceo Piero della Francesca. Domani pomeriggio invece a Villa Severi dalle 16 alle 18 la prima uscita del progetto alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un poni organizzato dalla scuderia PAN con il patrocinio del comune di Arezzo e del coni del comitato FISE Toscana. Il progetto darà la possibilità a bambini e ragazzi, nessuno escluso, di scoprire il verde dei parchi cittadini in sella ad un poni. I bambini potranno salire sull'animale con una sorta di battesimo della sella accompagnati da istruttori qualificati. Ci sarà anche un tecnico di riabilitazione equestre per consentire di fare questa esperienza anche a bambini e ragazzi con disabilità. E di relazione al derby di domani, Perugia-Arezzo, il ricorso alla Tribunale Amministrativo dell'Umbria presentato da Orgoglio Amaranto è stato respinto. Restano dunque valide le disposizioni della GOS, dunque vendita dei tagliandi per residenti nella provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della tessera del tifoso. Noi siamo collegati con Daniele Farsetti di Orgoglio Amaranto. Daniele, dunque siete andati per carte bollate ma alla fine a questo derby non potrete assistere? Innanzitutto bisogna spiegare anche le premesse di questa azione giudiziaria che abbiamo deciso di intraprendere, di concerto e di collaborazione anche con tutti i gruppi della Curva Sud Lauro Minghelli, nel senso che dalle notizie e poi dagli atti ufficiali che già il 22 marzo il GOS di Perugia aveva redatto erano state indicate delle modalità per cui i tifosi di Arezzo potessero prendere parte a trasferta di Perugia assolutamente secondo il nostro punto di vista evidentemente esageratamente stringenti e che nulla avevano a che fare con la gestione dell'ordine pubblico ma era semplicemente la volontà di impedire che i tifosi di Arezzo potessero appunto essere in trasferta a Perugia, era previsto l'utilizzo di pulma collettivi quindi anche con una limitazione molto stringente alcuni principi costituzionali che sono poi la libertà di movimento degli individui perché ricordiamo noi siamo tifosi e spesso questa categoria di persone viene identificata in un contesto anche al di fuori poi della nostra ordinaria organizzazione della società. Siamo cittadini come tutti gli altri, cittadini di Serie A che non hanno nessuna volontà di essere né fatti oggetto di una repressione insensata né tantomeno essere considerati soggetti passivi che non hanno loro diritti e non hanno possibilità di esprimere la loro voce. Daniele so che ci tenete a ringraziare personalmente l'avvocato Ciabattini che ha redatto i documenti oltre per l'impegno professionale si è infatti speso per questa vicenda come un vero e proprio tifoso ma un'altra domanda lo rifareste? Una prima vittoria comunque l'abbiamo ottenuta dopo questa prima determina del GOS di Perugia comunque la riunione definitiva ha tolto di mezzo l'uso dei mezzi collettivi di spostamento, insomma ognuno può recarsi a Perugia con il mezzo che preferisce. Ognuno ha inteso quelle 150 persone che ad Arezzo hanno la tessera del tifoso, quindi è una limitazione molto stringente perché in realtà non è preclusa completamente la trasferta ma la determinazione è stata appunto quella che solo i possessori della tessera del tifoso ci potessero andare. Ora considerando che l'Arezzo per due anni è stata in Serie D e quindi la tessera del tifoso non era obbligatoria, non era neanche prevista più che obbligatoria, quindi ovviamente pochissime e quest'anno nessuna trasferta ha visto la necessità di utilizzo della tessera del tifoso, anche a Lucca per esempio in cui c'erano stati dei fatti comunque in cui in realtà gli arettini erano stati vittime però c'erano stati dei momenti di tensione tra i due tifosi sereni e anche in quel tipo di circostanza le autorità di quella città avevano previsto l'utilizzo della tessera del tifoso che è diventato uno strumento totalmente desueto perché già con l'introduzione del biglietto nominale che è già collegato alla banca dati della polizia per cui si può identificare immediatamente se un soggetto che non ha la possibilità di acquistare un biglietto per lo stadio lo stesse tentando di fare, di fatto la tessera del tifoso è stata introdotta e viene utilizzata solo e soltanto quando le autorità di pubblica sicurezza vogliono fondamentalmente impedire che qualcuno vada in trasferta perché ormai è un mezzo completamente desueto e privo anche del suo significato forse se l'ha mai avuto originario. Abbiamo capito dunque la vostra posizione anche sulla tessera del tifoso, chiaramente adesso per questa trasferta non c'è più appello. Noi abbiamo percorso questa strada giudiziaria in primo luogo perché crediamo appunto di avere dei diritti e di volerli portare in fondo fino all'atto conclusivo. crediamo che poteva essere, se poi fosse veramente anche arrivato a risultato positivo per noi, un precedente importante e questi tentativi comunque hanno un senso perché rivendicano la possibilità che le persone organizzate insieme possano cambiare le cose. Di uno strumento che ormai per stessa ammissione dell'autorità di pubblica sicurezza è fondamentalmente uno strumento anche da cambiare per il legislatore più che per l'autorità, uno strumento da cambiare perché ormai ha perso gran parte dei suoi connotati. È stata una battaglia dal nostro punto di vista quasi di civiltà, nel senso contro un'autorità che non ha a nostro giudizio nessun interesse a voler gestire l'ordine pubblico come sarebbe poi la competenza di questa autorità, ma semplicemente ha deciso di risolvere i problemi impedendo che qualcuno possa partecipare a un evento sportivo. Ti ringraziamo Daniele e adesso passiamo alla basket. L'ultima fatica di campionato per l'AMBC Servizi Arezzo è in programma domani alle 18 al Palace Portestra quando affronterà il Campus Varese. Per il pubblico amaranto sarà dunque l'occasione per il saluto finale della squadra di coach evangelisti che anche in questa stagione ha regalato tante soddisfazioni alla società e ai propri sostenitori. Prima fra tutti l'aver conquistato la permanenza in categoria con larghissimo anticipo dopo la promozione dello scorso anno. Varese è un avversario scomodo perché in un momento positivo ha recuperato le assenze che hanno condizionato la squadra a Lombarda, tanto che nelle ultime due giornate ha battuto Spezzi e Quarrata, ovvero le formazioni che guidano la classifica. Per tutti i sostenitori amaranto dunque l'appuntamento è per le 18 sulle gratinate del Palace Portestra. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.